Buongiorno a tutti, sono Giuri Simona, psicologa e psicoterapeuta. Svolgo la mia attività presso studi cognitivi nella sede di Modena e collaboro all'interno delle cliniche italiane di psicoterapia con il Centro per i disturbi della personalità. Nello specifico mi occupo con la dottoressa Brugnoni dei colloqui di accoglienze individuali e di quelli che accompagneranno la persona lungo tutto il percorso di cura. Con il primo colloquio si concorda insieme alla persona l'effettuazione di una valutazione testistica psico-diagnostica che verrà poi ripetuta a metà e a fine percorso. Settimanalmente invece svolgeremo i colloqui individuali al fine di monitorare l'andamento del percorso, punti di forza, criticità, risorse e monitoreremo il funzionamento personologico. Inoltre all'interno del centro è possibile effettuare una consulenza psichiatrica con la dottoressa Elena Carra, dove ce ne fosse la necessità o la persona non ha visto un riferimento poco esterno. Infine conduco con la dottoressa Offredi il gruppo sul riconoscimento e la gestione del rimuginio secondo il modello di Adrian Wells. Questi interventi sono organizzati all'interno di un percorso che prevede procedure e segue modelli evidence-based. Vi ringrazio per l'attenzione e buona giornata.